Nel carcere di Enna è inaugurata l'area gioco per i figli dei detenuti, un progetto WISP Sicilia selezionato da imprese associate nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorire. Sentiamo. Un'area convertita in spazio di gioco all'aperto per accogliere i figli dei detenuti. All'interno della casa circondariale Luigi Bodenza di Enna l'idea è quella di attutire il trauma che un bambino prova quando entra in un istituto penitenziario per incontrare il proprio papà e allo stesso tempo creare uno spazio accogliente in cui si possa mantenere il rapporto genitori figli che la detenzione mette alla prova. Una casetta di legno, dei libri animati per tutte le età, scivoli, altalene, giochi da tavolo e fogli per disegnare ma anche palloni per giocare sull'erba sintetica. È il progetto di WISP Sicilia con il supporto dell'associazione con i bambini. Sentiamo Vincenzo Buonasera della WISP di Enna. Il gioco, il movimento li aiuta a riconquistare, quantomeno a restringere quel divario temporale che purtroppo li divide. Antonio, detenuto, oggi è contento di giocare con i propri figli in questo spazio accogliente. Indossa la maglietta del progetto disegnata dal fumettista Mauro Biani, un genitore che guarda la libertà dalla finestra di un carcere. Mi rivedo tanto in questa immagine che abbiamo stavate nelle magliette, nel senso che un padre è insieme alla figlia. Un padre cosa può volere di più? Può volere la felicità di una figlia essere insieme alla figlia. Fabio Butera, TGR Sicilia.